Chiara Marchitelli termina il ritiro del Brescia con un amichevole internazionale contro l'Olympic Lyon, un buon test nonostante il risultato, cosa ha detto il campo oggi? Ha detto che in questi due anni dall'ultima partita che abbiamo fatto con loro in Champions c'è stata una crescita a Brescia, si è visto soprattutto nel primo tempo perché chiaramente loro sono sempre le campionesse d'Europa, però secondo me possiamo essere soddisfatti della crescita che abbiamo avuto in questi due anni. Soprattutto nel primo tempo si è visto un Brescia propositivo, il vantaggio è arrivato solo nei minuti finali grazie a un calcio di rigore, bisogna ripartire da qui per un cammino europeo che si spera sia di nuovo positivo come nella passata stagione? Sì certo, il cammino europeo certo ma tra 15 giorni circa c'è finalmente la prima partita ufficiale, la Supercoppa a cui teniamo particolarmente e secondo me il primo tempo comunque ha dato buone indicazioni anche in quel senso. Come è andato per te questo ritiro dopo un'annata la scorsa? Un po' difficile anche se si era chiusa bene con te il protagonista? È andato bene, è stato abbastanza impegnativo ma comunque lo sapevamo, la società e i tecnici hanno deciso come l'anno scorso di iniziare il ritiro presto per avere modo di fare tanti amichevoli in modo da arrivare a ottobre pronti perché sennò al primo anno siamo arrivati a fare la partita di Champions con una sola partita sulle gambe, non è stato il top. Grazie Grazie a te